Ciao a tutti, vediamo in questo video dieci segni delle persone finte. In questo video voglio spiegarti come riconoscere le persone finte, le persone che usano delle maschere, le persone che non si presentano per quello che sono realmente. È importante conoscerle perché eviti in questo modo di prendere delle cantonate, di prendere lucciole per lanterne. È quindi molto importante imparare a capire quali sono le persone finte e, tra virgolette, smascherarle. Allora, prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Inoltre, se vuoi qualcosa di più, puoi abbonarti al canale. Abbonandoti al canale potrai ricevere, diciamo, delle risposte precise alle tue domande in apposite live, proprio per te. E veniamo al tema. Dieci segni di persone finte. Allora, quali sono i segni che ti indicano che una persona è una persona finta? È importante, ripeto, capirlo perché questo ti consente di evitare di commettere degli errori, ti consente di evitare di sbagliare, insomma. Sbagliare e magari affidarti a persone che poi, in qualche modo, sia da un punto di vista sentimentale affettivo, sia da altri punti di vista, potrebbero in qualche modo rovinarti la vita. Allora, il primo segno di una persona finta è che spesso, non è detto che ci siano tutte e dieci, però, è che sono quelle persone che fanno i finti modesti. Che dentro, in realtà, vedi che c'è una sorta di arroganza, una sorta di immodestia, però fanno i finti modesti. Ti fanno, si fingono modesti, poi dopo invece ti vogliono manifestare quanto sono bravi, quanto sono belli, quanto riescono a fare, come sono meglio degli altri. Questa è una tipologia di persone dalle quali bisogna prestare attenzione, perché la maschera che usano, insomma, si presentano spesso come pecore, tra virgolette, ma poi in realtà dietro si nasconde il lupo, il lupo cattivo. Un'altra caratteristica, diciamo così, delle persone finte, spesso un'altra maschera che usano, ripeto, non tutti li hanno tutte, se no sarebbe, però, sono le persone passivo-aggressive. Cioè le persone che sembrano passive, ma poi di fatto usano, hanno un'aggressività dentro molto forte. Hanno un'aggressività che si manifesta anche proprio attraverso l'estrema passività talvolta. Fanno magari all'interno di una coppia il silenzio stampa. Insomma, non esprimono, quindi tengono nascosto. Anche questa tipologia di persone vanno tolte dai piedi. Bisogna lasciarle perché non si perde assolutamente nulla. Terzo segno, diciamo così, delle persone finte è le persone che ogni tanto spariscono, fanno ghosting. E poi ti raccontano però delle scuse. Ho fatto questo, per questo motivo, me ne sono andata per quell'altro motivo. Le persone che fanno ghosting, che spariscono e fanno ghosting, sono anche questa una tipologia di persone che andrebbe in qualche modo, che non andrebbe comunque seguita più di tanto. Perché è una tipologia di persone, è una tipologia di persona veramente sbagliata, veramente negativa. chi fa ghosting, che ogni tanto sparisce e ha sicuramente qualcosa da nascondere. Non è che lo fa tanto per fare qualcosa. Ha sicuramente qualcosa da nascondere ed è una tipologia di persona che non bisogna assolutamente stare a inseguire più di tanto. Poi un'altra tipologia delle persone finte è quelle che ti fanno, che sono sempre piene di rimpianti e di rimorsi. Cioè fanno le cose e poi si pentono, oppure non fanno le cose, e poi si pentono di averle fatte o di non averle fatte. E continuano a dire, ah, se avessi fatto così, ah, se avessi fatto così, come se quando fanno le cose non sono loro a farle, ma è qualcun altro che le fa al loro posto. Quindi non si assumono la responsabilità di quello che fanno. Ecco, le persone che di questo genere hanno spesso lacrime di cocodrillo, cioè si pentono, il pentimento li rappresenta. In realtà non devi cadere nella trappola perché questa è una finzione. Nessuno fa cose che non vorrebbe fare o non fa cose che invece vorrebbe fare. Quindi siamo tutti liberi di scegliere, soltanto ci sono alcune persone che utilizzano questo sistema come se un'entità si fosse impossessata di loro e li avesse costretti a fare qualcosa che non volevano fare. A fare qualcosa che non avrebbero voluto fare. Ecco, questo è da tenere presente. Nessuno costringe nessun altro a fare qualcosa. Se tu fai una cosa è perché vuoi farla. Se non fai una cosa è perché non vuoi farla. Quindi queste persone che hanno lacrime di cocodrillo in realtà utilizzano proprio questo sistema per evitare di assumersi responsabilità da scartare. Altra tipologia, cioè altro segnale delle persone finte è legato a quello che viene chiamato il falso sorriso. Il falso sorriso è un sorriso che non coinvolge gli occhi. Come vedete un sorriso vero è un sorriso che coinvolge anche i muscoli oculari. È un sorriso più sentito. Questo è il sorriso vero. Sorriso falso è sorriso vero. Ecco è importante cogliere queste differenze perché le persone finte un segno delle persone finte è il falso sorriso. Settimo sesto sesto punto è delle persone sesto segnale diciamo così delle persone finte è che essendo finte fanno anche finta di ascoltarli. cioè in realtà non hanno un ascolto empatico se tu noti sì fanno finta diciamo poi non sono in realtà non non sanno esattamente quello che che tu hai detto insomma hanno questa caratteristica di essere abbastanza di essere abbastanza di fingere e di ascoltarti fingere di essere interessato a te una settima caratteristica è essere bisognosi le persone costantemente bisognose che ti chiedono sempre delle cose talvolta fingono di essere bisognosi perché hanno capito che possono sfruttare diciamo questa cosa magari piangono magari si fingono si presentano diciamo come vittime del mondo e quindi sperano di trovare il salvatore e abbiamo poi l'ottavo punto che è caratteristico di molte persone di questa natura un segnale molto forte sono persone che fanno sono gentili sono ossequiosi ossequiose con persone di potere e poi talvolta sono arroganti invece con persone che hanno che non hanno potere ad esempio ecco questo di avere un comportamento che si adatta al potere è una cosa tipica delle persone veramente finte da togliersi subito nella vita nono nona caratteristica nono segno delle persone finte è essere pettegoli essere persone che sempre sono spettegolare su uno sull'altro insomma chi fa la portinaia toglietevele dai piedi perché non non merita diciamo le attenzioni e poi un altro punto è che colpevolizzano gli altri cioè tendono a colpevolizzare le altre persone sempre colpa di qualcun altro ecco questa è un'altra caratteristica tipica di persone finte di persone false che danno sempre la colpa agli altri non si assumono mai le responsabilità ecco se riesci a cogliere questi dieci segnali nelle persone che ti circondano sono i segnali dieci segni delle persone finte che ti permettono di capire che sono persone che sono meglio e che è meglio evitare lascia nei commenti qualsalto quello che ne pensi esprimi la tua opinione seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscriviti ovviamente al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e se vuoi delle risposte precise mirate alle tue domande abbonati al canale ciao a tutti